Ciao ragazzi, oggi sono qui per mostrarvi Timothy, ovvero l'amico di Donnie che si è sempre voluto mutare. Questo qui è un giocattolo prodotto dalla Toys ed è molto meno umano, direi, rispetto a quello ed è anche più strano. Questo è stato prodotto nel 2013 dalla Toys e la cosa molto bella di questo giocattolo è che Timothy può essere rimosso e dentro questo contenitore ci sono dentro queste che non hanno mai capito a cosa gli servono. Questo interruttore situato qua serve per farlo parlare. Passiamo all'altro giocattolo. Questo è molto più vecchio ed è pure anche, secondo me, più bello ed è più umano ovviamente, come ho già detto prima. Questa è una struttura fisica molto più umana, come ho già detto, perché non sono proprio tutti gli organi, invece è proprio tutto unito, diciamo. Diciamo che Timothy è stato più fortunato qui, è diventato un essere mutante che aveva sempre voluto diventare. Questo è staccabile, cioè, tutta l'armatura è staccabile, come potete vedere. Adesso non la stacco tutta perché ci vuole veramente tantissimo tempo per riattaccarla. E come ho già detto prima, io preferisco questo. Questo qui contiene dei buchini nelle mani, che nel cartone usa, se non mi sbaglio, per sparare della sostanza che adesso non conosco, tipo dell'acido. E niente. Questo quindi era Timothy. Quindi Timothy del 1990 e Timothy del 2013. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.